Corriere Imprese Nord-Est, dicembre 2020 Family Business e Capitale Umano, Essere Benefit, Conta Ben, Hall e Charles, ciascuno per una precisa motivazione, sono stati nominati Employee of the Month di ottobre-settembre-agosto 2020 di Woodways, azienda americana con sede a Grand Rapids, Michigan, acquisita qualche anno fa dalla Vicentina Zordank, leader nell'arredamento del retail di alta gamma e partner di interior designer e architetti nella realizzazione di aree disartoriali, che nel 2016 ha ottenuto la certificazione B Corp e ha trasformato la sua ragione sociale diventando società benefit. Nell'iniziativa Employee of the Month si intravedono sia le caratteristiche distintive delle moderne famiglie imprenditoriali, nel caso specifico di Maurizio, Marta e Alfredo Zordank, sia alcuni dei tratti più promettenti delle imprese familiari di media dimensione, nel caso specifico 20 milioni di fatturato e 80 persone in organico nel 2019. La proprietà familiare fa la differenza. Alla fine di marzo 2020, appena entrati nel lockdown totale per l'emergenza coronavirus, la Zordank apre il corporate blog e trasferisce la comunità aziendale online con l'obiettivo di supportare maestranze e loro famiglie ad affrontare una situazione eccezionale e mai vista prima, l'isolamento forzato e l'interruzione delle relazioni sociali. Per mantenere la coesione su entrambe le sponde dell'Atlantico, si inventano gli appuntamenti del venerdì, si discute di libri, di cucina e di orti, si indicano proposte per la formazione online finanziate dall'azienda, si danno web consigli per chi è in quarantena e, da agosto, si festeggia l'Employee of the Month d'oltreoceano. Dall'apertura a fine marzo, a novembre 2020, il blog è stato alimentato da 103 post e l'azienda ha dedicato una persona alla sua gestione. La tecnologia digitale non deprime, ma amplifica i valori dell'impresa familiare. La comunità e il banchetto piano Il 4 e il 15 settembre 2020, sul blog aziendale appaiono due post dedicati al banchetto piano, l'iniziativa corale di Zordano, Comune di Valdagno e altre realtà del territorio per assicurare la ripartenza delle scuole in sicurezza. Un banco che si trasforma in seduto immobiletto e che, giunto a fine vita, può essere riciclato completamente. L'impresa ha contribuito con 250 ore di progettazione, prototipazione, lavorazione e verniciatura e con 120 ore donate da 12 persone della comunità aziendale. La famiglia Zordano, inoltre, ha reso liberamente disponibile il modello progettuale affinché possa essere utilizzato e migliorato in tutti i territori interessati all'iniziativa. Il fatto che ciò succeda a Valdagno, dove i Marzotto carearono la città sociale, conferma che la nutrizione attraverso le generazioni imprenditoriali lascia i suoi benefici segni.